la bellissima giornata di oggi ciao bellissima sono una principessa buongiorno a tutti ti ho chiamata principessa anche sugli auguri volevo vedere se siamo online se mi controlli così poi vengo di là sì così intanto ti lascio il tuo il tuo spazio per farti vedere in tutta la tua bellezza allora ci siamo bene allora allora arrivo perfetto buongiorno come sapete oggi è il compleanno di monica come fanno a saperlo come fanno a saperlo effettivamente non lo sapete ma oggi è il compleanno di monica per chi non lo sapesse questi stanno un po sfarfallando per chi non lo sapesse oggi è mio compleanno che è la tua e tra l'altro energia la mia energia che fa anche andare la corrente mamma mia oggi wow voglio dire solo wow ciao daniela buongiorno grazie anna grazie anche daniela mi fanno gli auguri grazie mille scusate ma non dite niente della mia creatività delle dieci e mezza della sera del 4 novembre la la quinta e ascoltava un corso la coroncina la cocarda con scritto è il mio compleanno come se non si notasse questa mattina siamo andate a fare colazione una signora colazione e io ero in mezzo al bar con la corona in testa capito ecco questo è il livello di maturità che abbiamo noi qui oggi in realtà non credevo non lo credevo possibile ciao laro buongiorno grazie grazie mille grazie a tutte grazie rosetta grazie monica grazie angela loredana gabriella marina silvana mara scusa monica non lo sapevo è infatti maria grazie anna perché non la ci siamo noi che lo ricordiamo ve lo diciamo noi tranquilli ciao giusi buongiorno grazie grazie a silvana e grazie mille daniela ancora grazie a tutte grazie mille allora siccome oggi come voi sapete e se siete iscritti alla newsletter su whatsapp vi sarà arrivato anche il messaggio questa mattina noi oggi per festeggiare appunto il mio compleanno siccome quest'anno vogliamo fare festa granda allora festa granda abbiamo dov'è dov'è la porchetta abbiamo della polenta di farvi un regalo di farvi un regalo quindi ah fammi parlare che mi fai venire fame come un cornello ho mangiato per prima i tuoi biscotti di stamattina perché avete rimpintato la monica di le cornie e ovviamente sono una sorella maggiore no diciamo così allora questa mattina avete portato dei dolcetti e l'ornella mi ha fatto i biscotti quelli con la pasta di mandorle e ce li siamo già mezzi sbaffati la francesca ha dato il via e poi ovviamente noi ci siamo andate dietro a ruota libera comunque ecco adesso mi sono distratta a pensare al cibo che insomma tutorial della serafina siccome oggi volevamo festeggiare questo compleanno insieme a voi abbiamo deciso di darvi in regalo il cartamodello di questa angioletta serafina ok e questo sarà in regalo ovviamente a tutti quelli che ordineranno sul sito che chiuderanno degli ordini o comunque ordini che partiranno oggi online e tutti quelli che passeranno il negozio a trovarci quindi se oggi venite in negozio o comunque ordinate tramite whatsapp o tramite sito oggi riceverete in omaggio il calendario di questa angioletta serafina e ci siamo dette ma perché visto visto il giorno visto appunto questo nuovo progetto eccetera eccetera perché non fare il tutorial oggi e allora alle 12 meno 10 abbiamo deciso di fare il tutorial esattamente quindi abbiamo detto vabbè i kit sono già disponibili qualcuno stamattina li ha già acquistati in super promozione perché vi ricordo che anche il kit è in promozione quindi al posto di 19 solo se lo acquistate oggi lo avrete a 15 euro quindi avrete il kit da tre pezzi da tre angioletti a 15 euro e il cartamodello è in omaggio quindi avete proprio tutto incluso in 15 euro scontati poi siccome oggi volevamo solo presentarvi il kit a dire il vero però stamattina eravamo qua con Cinzia e diceva sì anche il tutorial potrebbe essere utile e ho detto ok allora già che ci siamo approfittiamo proprio facciamo il jackpot oggi e facciamo anche il tutorial e così oggi parliamo completamente di questo progetto vi facciamo vedere appunto come si realizza così se questa mattina o comunque in giornata avete voglia di acquistare questo kit sapete anche già come si fa le spiegazioni in realtà sono già complete nel senso che noi abbiamo preparato il cartamodello ovviamente con la fotografia e le spiegazioni passo passo quindi in realtà il cartamodello che riceverete oggi in omaggio è già completo il tutorial diciamo è una cosa in più extra che però ci sembrava carino proprio così per festeggiare c'è qualcosa che non va che cosa che non va ho sempre la tua energia per festeggiare al meglio questo mio trentunesimo compleanno allora ciao a tutti ciao tiziana ciao adriana grazie ti ho scritto su whatsapp ok sì questa mattina non sono riuscita a guardare molto i messaggi di whatsapp ho risposto a qualche messaggio di auguri anzi grazie ancora a tutti e poi pomeriggio finisco dei kit della dell'angioletta e poi mi metto a rispondere anche a whatsapp perché tra questa sede domani mattina devono partire assolutamente i pacchi Gabriele dice visto che sei la sorella maggiore hai assaggiato i dolci della festeggiata per sicurezza che fossero buoni infatti fin da piccola insomma vado avanti per proteggerla e adesso non è che posso tirarmi indietro diana dice auguri principessa grazie grazie mille che questi non sono zirconi ragazzi cioè questa roba diamanti di quelli di la tasmanio ma sì le cose fatte bene ciao lenca buongiorno grazie mille allora rene dice prendo un kit anch'io grazie ciao e buon compleanno grazie rene grazie mille a tutti per gli auguri anche giusi riserva un kit allora per riservare i kit per favore se mi scrivete un messaggio su whatsapp io sono super contenta e super comoda che così io me li segno man mano che vi leggo e non rischio di dimenticarmi di voi soprattutto super contente che apprezzate anche perché vi ricordo che appunto il kit è in promozione oggi e poi da durante la settimana se comunque volete acquistare il kit più avanti ora lo troverete sempre però un prezzo ovviamente maggiorato mi sono fatta prendere dall'entusiasmo e non ho nemmeno salutato buongiorno tranquilla diana ciao buongiorno a tutte grazie vittoria ciao cara principessa ciao paola grazie mille a tutte per gli auguri benissimo io direi che possiamo cominciare a fare questo tutorial abbassiamo l'inquadratura perché oggi vi voglio far vedere come si realizza questa angioletta posso togliermi la corona che il musgume mi sta facendo sudare la corona eh scusa non ho usato un un prodotto termoregolatore un puro cotone un puro cotone la prossima volta allora vi faccio vedere di cosa abbiamo bisogno per fare questo progetto tan 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 scusate che vi posiziono bene la fotocamera qua quello che è come vedete qui in realtà stiamo usando dei materiali abbastanza semplici aspetta un secondo che rispondo a paola il tutorial che magari è utile a tutte rimane salvato sì quindi sì rimane salvato ma non solo perché lo metteremo anche sul nostro canale youtube quindi lo potete rivedere anche lì ok comunque mi stanno dicendo che è una corona di smeraldo pur non l'avevano neanche mai vista al museo del tesoro di san gennaro ecco vedi qui siamo messi ancora meglio ecco allora io direi che possiamo cominciare vi facciamo vedere un po' i materiali i materiali sono abbastanza classici nel senso che abbiamo usato semplicemente legno del feltro 3 mm un tessuto pelliccia che non è un materiale nuovo perché il negozio l'abbiamo già da un po' anche il decovil che è questo sarebbe un termo adesivo che avevamo utilizzato nel nostro progetto della capanna dei sei cuori a una capanna progetto del primo libro per rendere un po' più rigido il feltro in questo caso lo usiamo semplicemente come struttura per il corpo poi ultima cosa abbiamo questo materiale che è una una maglina spalmata si chiama vedete molto bella molto comoda anche per rivestire che so le sfere se volete rivestire delle bocce eccetera in tinta dorata eventualmente ci sono anche in argento se volete fare qualche progetto particolare e questa la useremo per fare il dorato delle alucce questo materiale molto bello perché è un materiale bi elastico che si potrebbe utilizzare anche per l'abbigliamento e è molto morbido è proprio così non si stropiccia molto carino bello 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 benissimo io direi che anche se volete fare delle ali degli angeli da cucire insomma quella macchina rivestire le sfere se volete fare qualcosa per il natale eccetera un materiale molto comodo mi sono persa un messaggio dalla marina si che ha detto che ha fatto l'ordine non so se è andato a buon fine comunque penso di sì marina in caso ti scriviamo dopo mi sembra di aver letto in cima ma ho perso il messaggio perché sono andata ad aprire al corriere allora ho perso ho preso il kit angioletto online potete poi controllare se è andato a buon fine perché ho visto degli ordini stamattina però controlliamo dopo dopo controlliamo perché stamattina ho visto degli ordini però dell'angioletto però non so se il tuo nello specifico è andato a buon fine poi marina controllo magari mandami un messaggio su whatsapp così non me lo dimentico ok cominciamo allora prima di tutto bisogna tagliare dal decovil da questo materiale qua che sembra quasi un cartoncino però è molto più morbido il cartamodello del corpo adesso partiamo da questo passaggio qui tutto il resto lo metto da una parte noi abbiamo il nostro tessuto pelliccia voi ovviamente nel kit avete un taglio più piccolo perché il kit contiene il materiale per tre angioletti io qui ho un taglio più grande lo metto con il rovescio verso di me e vado a incollare il corpo sul sul tessuto pelliccia quando incollo questo il corpo metto la colla un po dappertutto e la posiziono così lasciando un margine su tutti i lati prendo l'altro corpo lo incollo anche qui si vede o volete che avvicino un po l'inquadratura in caso scrivetemelo che avvicino ok lascio lo spazio sia per uno che per l'altro la forbice dov'è qua? lì nel portaforbice ok incollati i due corpi vado a tagliare lasciando sempre un margine di un centimetro è più che sufficiente io qua sto abbondando quindi lasciamo il nostro margine di circa un centimetro e tutto il resto lo eliminiamo ok 1 e 2 il tessuto pelliccia costa 4 euro del taglio 40x40 esiste anche a metro adesso l'abbiamo terminato però tornerà penso vero Monica? si lo ordineremo la settimana prossima perché ho ancora 5 kit e basta ecco comunque il taglio 40x40 costa 4 euro e è disponibile in bianco quindi incollati i corpi sul tessuto pelliccia e rifilati vado a mettere la colla solo sul contorno e vado a chiudere verso l'interno il mio tessuto pelliccia quindi colla sul perimetro sul bordino e giro verso l'interno il tessuto pelliccia mi chiede la Laura se potrebbe mettere il cartone al posto del corpo ma si volendo si e che ti risulta più grosso perché già il tessuto qua il tessuto pelliccia ha già un suo spessore perché poi la pellicciotta lo fa diventare un po' più cicciottello più che un cartone magari un cartoncino un cartoncino più leggero forse si perché questo è un tipo di fliselina apposta che indurisce se comunque volete la fliselina non costa proprio uno sproposito quindi se volete fare esattamente il progetto così com'è eventualmente c'è anche da acquistare sfuso se invece volete farlo con il cartone non so se risulta cioè potete farlo tranquillamente bisogna vedere come diventa di spessore comunque fate una prova non c'è problema ti stanno facendo gli auguri vedo Claudia e Maria grazie a tutte grazie mille e la Gabriella dice mi siete mancate ma vi voglio bene grazie grazie ecco qui qui abbiamo praticamente rivoltato verso l'interno tutti i bordini li appiattisco un po' panino esterno e panino le due estremità del panino esatto abbiamo questi due corpi rivestiti quindi abbiamo la forma del corpicino tutto fatto di pelliccia e il taglio vivo che perde un po' il pelotto è all'interno bene fatti i due corpi iniziamo a lavorare per le braccia cioè per le gambine allora infiliamo nel quanti erano? 25? vuoi che leggo il cartamodello che hai scritto tu? no no 25 cm per le gambe infilo le due sfere una e due ok faccio un nodino a un'estremità e un nodino all'altra estremità ok così non esce elimino il filo che mi avanza il cordoncino che mi avanza da qui sotto e questi saranno i miei piedini e voilà queste saranno le gambette della nostra angioletta le vado a incollare nella parte bassa di uno dei due corpi centrate quindi così ok c'era la Paola che mi diceva di avvicinare magari avvicino leggermente scusatemi che così vedete un pochettino meglio si fateci sapere se riuscite a vedere bene si aveva visto dopo il messaggio della Paola che mi diceva di avvicinare fatto questo prendiamo altri circa 20 cm anzi 20 in realtà sono anche abbondanti ma va bene tanto nel tito io ho messo materiale abbondante vado a incollare le braccine più o meno da qui considerando che qui c'è la testolina vado più o meno all'altezza della spalla incollo un'estremità così poi giro, giro, giro e incollo l'altra estremità sull'altro lato e voilà e queste saranno le mie braccine lascio asciugare un po' la colla ok queste saranno le braccia adesso vado a incollare uno strato sopra l'altro quindi metto la colla sul perimetro ovviamente essendoci la pelliccia bisogna stare un po' più sollevati altrimenti con quelle unghiette lì così si incolliamo sopra l'altro corpo sandwich facciamo un bel panino e questo è il risultato abbiamo il nostro corpo con le gambine che escono da sotto e le braccia che escono dai laterali ok e fin qua diciamo ci siamo sta crescendo pian pianino ok adesso cosa facciamo? facciamo la testolina allora io ho preso la testolina da 4 mm prendo la mia matassa di lana che trovate all'interno del kit nel kit vi ho già fatto le tre matasse separate così non dovete preoccuparvi di sapere quanto ne va per una e quanto ne va per l'altra trovate tre matasse, una matassa per ogni angioletto prendete un cartoncino di qualsiasi tipo questo misura 12 cm e andate ad avvolgere la lana intorno al cartoncino bisogna tenersi da parte tre pezzettini che ci serviranno poi per legare i codini quindi adesso taglio tre pezzetti uno circa 10 cm dai super giù circa da 10 ok ora prima di togliere la matassa vado a legare le due estremità quindi leggo di qua questo è il procedimento se avete acquistato la luce, quella dell'ultimo libro che si utilizza anche per la sua acconciatura poi lei ha anche i codini ma questo è un procedimento basico diciamo per fare le acconciature per non stressarci troppo e soprattutto per creare una cosa più pulita possibile più acconciata possibile bella acconciata adesso io ho chiuso le due estremità laterali tolgo dal cartoncino e vado a legare anche nella parte centrale sempre con i miei tre pezzettini che ho avanzato prima vedete che rimane bella compatta puoi farla vedere da vicino così quando hai finito ok facciamola più o meno in centro direi che è qui al centro ok doppio nodo e voilà taglio quello che avanza dei miei laccetti anche se in realtà non si vedranno e doppie punte tagliamo le doppie punte e via ok via quindi abbiamo la matassa chiusa più o meno a metà sono stata un po' più ma dai la riga è un po' spostata ok non ho adesso sistemato strostatura a metà legate alle due estremità io ho la mia testina vado a incollare la matassa al centro della testa quindi partendo dalla fronte così e adesso andiamo a incollare mettendo la colla sui laterali del viso i capelli incorniciando il visino quindi così sia da un lato che dall'altra poi nei kit non abbiamo mai messo le faccine già dipinte se però non ve la sentite di disegnarle le disegniamo volentieri quindi in caso ce lo fate sapere prima e le disegniamo sì eventualmente il kit viene un euro e cinquanta in più perché sono cinquanta centesimi per ogni testina disegnata però appunto se non avete le penne se non ve la sentite tranquillamente facciamo anche il servizio pittura ok quindi colla sul retro vado a chiudere le due alette così facciamo il toupé abbiamo fatto l'acconciatura facciamo un piccolo riportino sul dietro ok quindi abbiamo il dietro coperto che comunque non si vedrà quindi nel caso aveste qualche difetto non preoccupatevi il viso incorniciato e la testina pronta quindi questo è quello che serve per fare l'acconciatura poi abbiamo le nostre ali qui le abbiamo già tagliate dal feltro 3 mm vado semplicemente a mettere la colla per mettere in doppio la maglina spalmata dorata con il feltro allora siccome questa comunque è una maglina anche abbastanza leggera non è pesantissima non è come un pannolenzio come un feltro se noi qui andiamo a mettere sotto la colla si vede un po' lo spessore quindi per risolvere il problema abbiamo pensato di fare così allora noi abbiamo il cartamodello già tagliato iniziamo da un lato e mettiamo la colla come se fosse una specie di cordoncino così io per comodità ne faccio prima mezza e poi l'altra mezza una volta messa la colla vado sul retro e semplicemente la incollo così si creerà praticamente come un contorno adesso vi faccio vedere che bellino anche da vedere ok vedete adesso non so se si riesce a vedere bene si vede leggermente il disegno dell'ala non so si vede si vede in controluce perfetto fatta la prima metà facciamo anche l'altra metà quindi lo fate in due passaggi altrimenti si asciuga la colla ovviamente si è l'importante il mio tessuto è andato via a segnale un attimo ma in teoria siamo tornate ok bene fatto questo con le forbici vediamo ok dovremmo essere tornate ok con le forbici rifilo tutto tutta l'aletta quindi rifilo le ali togliendo l'eccesso come vedete sono dei passaggi molto semplici però siccome questo angioletto è pensato o da regalare come porta fortuna oppure anche da mettere come chiudipacco o per l'albero di natale ovviamente dovremmo fare qualcosa di abbastanza semplice che non ci impieghi troppo lavoro infatti se vedete non c'è niente da cucire per appunto riuscire a farne tanti pezzi in tempo abbastanza limitato io non so perché ma questo angioletto lo vedo molto bene sulle sulle finestre cioè ve lo immagino perché questo essendo piatto essendo bello da vedere anche sul retro potete tranquillamente metterlo anche sulle finestre come decorazione ok ho rifilato tutto il contorno delle alette che adesso sono rivestite di oro vedete da questa parte è feltro e da questa invece sono dorate ecco qua fatto questo andiamo ad assemblare il tutto quindi allora nella spiegazione io ho scritto il restante cordino di annodarlo e fare l'asola adesso vi rendete conto che fosse un'asola un po' esagerata però siccome non sapevo insomma magari avevate sbagliato la misura eccetera eccetera vi ho lasciato qualcosina in più per un margine d'errore quindi io adesso mi taglio l'asola della misura che mi interessa questo diciamo in avanzo faccio il mio nodino in fondo e creo l'asoletta ok incollo l'asola al centro delle ali sulla parte dorata così poi incollo il corpo sempre sulla parte dorata abbondo anche con un po' di colla giù si dice una cosa veloce e brave esatto è super veloce che così riuscite anche a farne tanti pezzi nel caso voleste regalarli agli amici eccetera eccetera comunque sono andata a controllare la pellicciotta ce l'abbiamo anche marroncina cioè beggiolina chiara e color nocciola quindi abbiamo i tre colori volendo magari poi vi facciamo vedere nelle storie di colori separati metto la colla sempre sulla letta incollo la testolina qui faccio un po' di pressione ok e adesso prepariamo le decorazioni quindi nastrino dorato questo è un'altezza di 5 mm sonaglino anche questo ovviamente dorato infilo il nastrino all'interno dell'asola del sonaglietto e con il nastrino faccio un fiocco ed è super carino dice la tizia grazie adesso non ti sto leggendo non ti sto leggendo tutti i messaggi di auguri poi te li leggi con calma perché sono tante tante grazie e insomma penso che possono farti piacere quindi li leggiamo dopo grazie mille a tutte comunque per gli auguri ok quindi qui ho fatto se ce la posso fare perché non è detto che ok ce l'ho fatta vai ho fatto il fiocchettino lo sistemo un po' e adesso lo vado semplicemente ad incollare con un punto sotto la testina come se fosse il colletto ok ora ultima cosina decoriamo le manine allora all'interno del kit potreste trovare la stellina piena come in questo caso o la stellina vuota nel caso appunto aveste la stellina vuota basta che tagliate più o meno a questa altezza in modo che non si veda il filo di corda che passa sotto la stellina però il procedimento è lo stesso quindi metto mi piace più da questa più rustica incollo la stellina al centro incollo le due manine laterali sul cordoncino quindi una di qua e una di là ok le due manine come se stessero reggendo la stellina e le ultime due stelline dorate che ci sono nel kit le incollate a piacere io ne ho messa una sulla stellina in mano così e una sui capelli in modo da arricchire un pochettino l'acconciatura e quindi così e voilà e voilà si era incollata ecco qua e questa è la nostra angioletta serafina fatemi sapere se vi piace mettetevi un cuoricino per te o per la serafina per entrambe per entrambe eccola qui è molto carina facile da fare veloce e non so se avete notato non ha nessun tipo di cucitura nessuno non ha cucitura adesso tagliamo le cordine ne abbiamo accontentato anche chi l'ago proprio non lo sopporta esatto quindi alza pure l'inquadratura arriva guarda non sono andata giù con i cammenti qua sono andata giù solo lì così puoi leggere i messaggi e allora vediamo vediamo ciao anche a Cinzia buongiorno grazie mille per gli auguri Antonella abbiamo fatto il tutorial dell'angioletta serafina eccola qui grazie Natalie grazie Sabina scrivo su Whatsapp perfetto cosa viene il tessuto pellizia ho da risposta a quelle ok no era solo i tuoi auguri ah ok ok si ecco sei tentante comunque grazie grazie mille a tutte grazie grazie per gli auguri grazie Anna visto che hai stressato per una settimana adesso dovresti ringraziare una ad una le persone che si sono prese la briga di scriverti di scriverti gli auguri grazie Denise oggi parte anche il tuo pacchetto grazie grazie mille anche a Gabriella super bene grazie Mara rubo 5 minuti che tesoro auguroni tanti auguri Monica grazie Caterina grazie Maria grazie grazie Laura grazie a tutte siete troppe non ce la faccio grazie mille allora Carla Luisa Laura hai fatto anche il kit quanto viene allora il kit viene solo per oggi perché di solito il prezzo sarebbe di 19 solo per oggi a 15 euro quindi se lo ordinate acquistate oggi quindi entro questa sera lo avrete a 15 euro con carta modello in omaggio con carta modello in omaggio da domani lo potete trovare presto di 19 perché appunto solo per oggi solo per il mio compleanno facciamo questa promozione quindi sconto del kit e carta modello in regalo e nel kit ci sono tre pezzi perché mi sta dicendo la regia laggiù la solita regia non so se la conoscete lo chiedo no nel kit ci sono tre angioletti dice la Paola ci arrivavamo stiamo arrivando e non si può non si può è andata sì comunque nel kit c'è il materiale per tre angioletti quindi il materiale per tre angioletti il carta modello è gratuito oggi lo trovate scontato 15 euro al posto di 19 quindi se lo volete riservare mi raccomando fatelo oggi perché così avrete due regali praticamente quindi lo sconto e anche il carta modello in omaggio penso che il mio non lo apprezzi anzi tre regali perché il tutorial anche è gratuito ovviamente come dicevo adesso lo eliminiamo come facciamo sempre e lo troverete anche sul nostro canale youtube quindi oggi tre regali perché non so dove ero quando avevo 31 anni è passato troppo tempo tre anni semplicemente ma va bene così non ricordo più cosa abbiamo fatto grazie Irene che dice molto bella anche Marina dice molto carina grazie grazie mille è arrivato il pacco bene sono contenta Mara grazie Daniela per gli auguri anche Aurora solo carta modello allora solo il carta modello viene 5 euro e quello lo trovate disponibile da domani se appunto lo volete oggi è in omaggio mi raccomando facciacelo riservare oggi che l'ho fatto apposta per darvelo in omaggio e il carta modello ovviamente è gratuito con l'acquisto in negozio oppure online di qualsiasi cosa di qualsiasi importo quindi non abbiamo messo un limite minimo il carta modello ce l'avete acquistando qualsiasi cosa qualsiasi articolo che sia lana filati un bottone altri carta modelli corsi kit accessori per l'infettrimento aghi tutto quello che è tutto quello che c'è all'interno di questo negozio potete tranquillamente acquistarlo e avrete il carta modello in omaggio bisogna pagare entro oggi allora sì sarebbe preferibile fare tutto entro oggi perché poi siccome poi il mandare il carta modello se siete lontani è una cosa automatica che facciamo con il gestionale allora sì sarebbe meglio fare tutto entro oggi brava marina magari si perdono può essere può essere tra l'altro era arrivata da un minuto e mezzo grazie mille Veronica Veronica chiede se le faccine nel kit sono già dipinte le faccine nel kit non sono dipinte ma se volete possiamo mettervele già dipinte al costo di un euro e cinquanta in più quindi cinquanta centesimi di pittura per ciascuna testina quel velluto a righe che avete usato per fare l'alpino dove lo trovo dici la maglina coste quella mi scrivi su whatsapp che ce n'abbiamo ancora abbiamo il taglio da 6 euro mi pare che ne fai 6 pezzi comunque Stefania scrivimi su whatsapp che così ti faccio vedere perché ci sono anche altri colori benissimo io direi che possiamo chiudere qui noi vi ringraziamo grazie mille ancora a tutte per gli auguri siete sempre gentilissime andiamo a cerare col cazzo di Cesare mi avete portato anche tanti dolcetti questa mattina io sono super contenta io anche la Franci di conseguenza la mamma di conseguenza esatto tutti di conseguenza quindi grazie mille a tutte per gli auguri per essere state qui il tutorial rimane salvato sia qui che sul nostro canale youtube e per favore se vi va fatemi anche voi un regalo e condividetelo e vai così siamo pari così siamo pari un regalo per voi un regalo per me bene vado a spegnere noi ci vediamo giovedì vi ricordiamo stai a cazzo dei messaggi che c'è Sabrina che chiede il costo il costo del kit è di 15 euro solo per oggi perché altrimenti nei prossimi giorni sarà sempre disponibile però il costo è di 19 comunque quando la diretta vi verrà chiusa nel titolo della diretta ho inserito tutti i dettagli e anche il link per arrivare al sito quindi se volete dare un'occhiata anche sullo shop online appunto trovate tutti i dettagli se non se non volete andare sul sito avete bisogno di parlare con noi o il numero fisso che comunque ho scritto nel titolo o il numero whatsapp che rispondiamo adesso che mi viene in mente però dovrei fare sul sito anche la variante con i visi dipinti di questo kit perché altrimenti non sanno come inserirlo dai la fai allora lo faccio dopo ok grazie mille Michela per gli auguri non mangiare troppi dolci mi raccomando e ormai sono già partita per la tangente stamattina quindi mi sa che Paola siamo un po' in ritardo ci pensiamo domani non ho capito devo entro oggi il bonifico di 15 anche per il kit allora se volete il kit scontato sarebbe meglio chiudere l'ordine entro oggi comunque io adesso chiudiamo la diretta pranziamo e poi mi metto al computer e vi leggo su whatsapp quindi entro oggi vediamo di chiudere tutto ok e comunque ci sentiamo su whatsapp non c'è problema grazie mille a tutti perfetto se avete altri dubbi mi raccomando ci sentiamo su whatsapp ok non fatevi scrupoli scriveteci sempre se avete bisogno benissimo grazie mille a tutti grazie Giovanna per gli auguri grazie mille bene noi ci vediamo di nuovo in diretta giovedì mi raccomando questo weekend ricordatevi che abbiamo due appuntamenti venerdì con Francesca Paterlini e sabato con Dottor Cucito e la dottoressa comunque già da domani sera domani sera sì ci sarà il programma sia su Instagram che su Facebook tu l'hai già condiviso su Facebook no non ancora bene allora tra oggi e domani ho condiviso solo sciocchezze in questo giorno perfetto tipo la principessa Monica del regno del bonbon perfetto grazie comunque storta ciao a tutti grazie cercherò di condividere anche cose serie ciao ciao